direttore barbera abolendo la censura si ha dato spazio ad un altro modello con comunque delle altre forme di controllo ma diverse dalle precedenti e con in più i soliti meccanismi burocratici all'italiana come 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 ha fatto questo nuovo modello e che cosa prevede allora non si parla più di censura perché finalmente la libertà di espressione degli autori di cinema è totalmente garantita no c'è una forma di come dire tutela dei minori che avviene attraverso un meccanismo abbastanza complicato un po all'americana se vogliamo con un'aggiunta invece tutta nostrana nel senso che in america funziona sempre così da quando esiste il codice ice creato nella fine degli anni venti all'inizio degli anni trenta dove la sono i produttori che che si auto limitano no imponendo certe categorie ai film che compaiono appena parte la produzione film per tutti film che devono essere visti accompagnati dai genitori film sconsigliati ai minori cosa del genere però i film escono normalmente non c'è nessun'altra autorità chiamata a certificare questa forma di autoregolamentazione in italia saranno da ora in poi saranno i produttori stessi che dovranno decidere a quale categoria attribuire il film però questa scelta deve essere convalidata da una commissione allora ed è questo l'ultimo intervento che ha fatto il ministro Franceschini con il decreto di due giorni fa e cioè la nomina di questa super commissione composta da 49 esperti che daranno vita delle sottocommissioni perché non dovranno mai riunirsi tutti assieme 49 esperti che sono fatte che sono rappresentanti di categorie diverse giudici magistrati ehm pedagoghi ehm sociologhi ehm rappresentanti di delle associazioni di genitori rappresentanti delle associazioni animaliste ciascuno delle quali dovrà dare il proprio parere vengono nominati vengono nominati non so bene non so bene ogni quanto cambiano immagino di sì perché non sono nomine ovviamente a vita avranno il solito ciclo di quadriennale immagino abituale per questo tipo di cose allora cosa succede i produttori scelgono la categoria eh con cui vogliono presentare un film presentano il film alla commissione la commissione ha venti giorni di tempo per certificare questa scelta eh dopo di che il film può essere distribuito questo meccanismo un po' complicato un po' faraginoso insomma mi immagino no queste queste riunioni di commissione che devo decidere se un film va bene per eh per tutti o per adolescenti accompagnati dai genitori poi c'è una serie di eh anche lì di 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 deroghe per esempio anche se il film è vietato ai minori di anni quattordici però può essere visto da un dodicenne purché accompagnato dai genitori quindi tutto un po' tutto diventa un po' più complicato perché la classiera dovrà verificare l'età del bambino verificare che il padre sia d'accordo che il film sia consapevole che sta portando il figlio il figlio a vedere un film riservato ai maggiori di anni quattordici e via via insomma insomma siamo purtroppo ancora vittime di una burocrazia amministrativa che in Italia sappiamo essere di origine borbonica e particolarmente eh elaborata però. E che ruolo hanno quando questi valutatori? Che ruolo hanno? Questi valutatori hanno venti giorni di tempo per decidere se la la categoria scelta dai produttori va bene o no. Se sono d'accordo come mi immagino nella maggior parte dei casi questo avverrà il film ottiene il eh la possibilità di essere distribuito. Se non sono d'accordo i produttori dovranno dovranno probabilmente modificare eh eh la catalogazione o se non altro discute nel merito ecco. Non so bene. Ma è comunque una forma di censura comunque? No non è una forma di censura è semplicemente eh una forma di tutela dei 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 minori. Non è una forma di censura perché la la commissione non può in nessun modo intervenire sui contenuti del film. Cosa che quindi cambia solo la classificazione? Cambia solo la classificazione quindi se se i produttori decidono che il film può essere visto dai maggiori di quattordici anni può esserci qualche pedagogo che dice ma no questo è un film troppo violento bisogna che il ragazzo abbia almeno diciotto anni ecco. Questo mi immagino sia un po' queste siano un po' queste le discussioni che che susciterà questo nuovo sistema di di catalogazione. Interessantissimo. Grazie. Grazie a tutti.